buongiorno benvenuti questa è la segna stampa di oggi domenica 9 settembre vediamo sui giornali quali sono le cose fondamentali di giornata diciamo che la cosa che oggi ha attirato di tutti i giornali in una giornata molto scarica molto moscia è la vicenda di salvini e delle sue battute con i magistrati insomma è anche un bambino piccolo proprio neonato tranne qualche nostro diciamo troll del movimento 5 stelle non si è reso conto che ieri tranne ovviamente la buongiorno che ieri era un po arrabbiato salvini con quello che gli stava succedendo con quella platea l'apertura dell'avviso di garanzia al ministero oggi i titoli dei giornali sono tutti rivolti alla cosiddetta frenata di salvini che dice una cosa che ieri peraltro non aveva detto cioè che non c'è nessun golpe giudiziario cioè i titoli dei giornali oggi parlano di frenata per una cosa che salvini si dice e che in realtà non aveva mai detto quello che salvini ha fatto e legittimamente come secondo me si può fare ormai è contestare certe scelte non dei magistrati tra l'altro ma di una parte la magistratura che è quella dell'accusa essendo lui in difesa potrà pure difendersi dalle accuse oppure no zitto e muto detto questo ovviamente i toni di salvini erano toni da talk show toni come sempre sopra le righe e su questo probabilmente sono in retroscena dei giornali di oggi il movimento 5 stelle non ci stava e non lo seguiva tra l'altro in maniera esplicita a buona fede il ministro della giustizia aveva detto ieri è una cosa ferocissima nei confronti di salvini e cioè sento toni della prima repubblica della seconda repubblica cioè sostanzialmente toni berlusconiani poteva dire quello ed era la frettata nei confronti di salvini era fatta completamente e allora salvini diciamo fa questa retromarcia secondo i retroscinisti di oggi che tale poi alla fine non è vedrete che continuerà a dire come la pensa e su il 12 maggio dei sui 49 milioni sequestrati sul sequestro di persona aggravata che lui avrebbe fatto per la 18 insomma detto questo direi che tutti quanti insomma pensano e propendono che sia stato un accordo con momento 5 stelle quello di calare i toni travaglio da par suo oggi su repubblica e sul scusatemi sul fatto si diverte nel suo fondo a ricordare quando invece era il pd a dire di tutti i colori nei confronti dei magistrati perché in quel caso era la consip il problema è che qualche cosa ci fosse nella consip non del tutto chiaro come qualcosa del tutto chiaro non c'è in patronaggio che attacca per sequestro di persona e salvini e come qualcosa di non tutto chiaro cioè sul sequestro di 49 milioni permettetemi di dire che c'è se per molto tempo si è indagato un poliziotto della noe no del nucleo di capitano ultimo che avrebbe così fatto una piccola sua interpretazione in un verbale dell'appunto della che poi è finito nelle mani di Woodcock ma comunque si lasciamo perdere quello che diceva ed è in questo ovviamente molto comprensibile travaglio è che tutti quanti i politici quando vengono atteggiati dai magistrati è sempre un complotto poi quando si tratta degli altri zitti e muti è fantastica questa scena sulla questione dei 49 miliardi bisogni dei 49 milioni sequestrati alla lega bisogna fare un passo indietro perché oggi un'intervista viene fatta dal fatto quotidiano pensate un po voi al tesoriere della lega bel sito condannato in primo grado insieme a bossi al figlio di bossi e a tre revisori dei conti condannati in primo grado in funzione di quella condanna di primo grado la procura di genova condanna di primo grado a tre persone fisiche o cinque persone fisiche la procura di genova ha chiesto di sequestrare 49 milioni di euro che erano il totale del rimborsi elettorali che di cui aveva diritto la lega il tribunale dell'esame nega questo diritto da parte della procura la procura ricorre alla cassazione la cassazione fa una sentenza piuttosto ambigua che viene rivista dal tribunale dell'esame che invece l'ambiguità la scioglie dicendo sì si possono sequestrare questa è la storia bel sito che cosa fa oggi intervistato dal fatto quotidiano che quando si tratta di persone che le sono comode anche se condannate per aver distratto i soldi vengono tenute in un piedistallo reale io che sono garantista tengo un piedistallo reale chiunque anche il condannato se qualcosa da dirmi ma l'idea che bel sito diventi l'apertura del fatto mi viene molto da mi fa molto ridere cioè bel sito il condannato quello dei diamanti quello della trota quello della laurea in albania quando parla contro salvini diventa una specie di autoritas per il fatto che cosa dice bel sito con cui titola e oggi apre il fatto 49 io ho lasciato nelle casse della lega 40 milioni e beh esattamente la prova della difesa cioè quello che è l'assurdo di questa vicenda che in pochi si ricordano è che tutta questa vicenda sono poche centinaia di miliardi di euro di euro che secondo i magistrati e secondo una sentenza di primo grado sarebbero state utilizzate male da bossi e grazie alla complicità di bel sito e dal figlio di bossi quindi bossi e suo figlio avrebbero malversato i contribuenti italiani e gli iscritti alla lega perché avrebbero 300 400 mila euro l'avrebbero usato per i cazzi loro quindi gravissimo mi chiedo se questo non è avvenuto negli altri partiti ma ovviamente questo vale solo per la lega di bossi in virtù di questi 3 400 mila euro gli sequestrano tutti i finanziamenti pubblici allora io mi chiedo è ovvio che i finanziamenti pubblici siccome arrivano dopo un po di anni quei finanziamenti pubblici sono arrivati al partito e il partito che ci ha fatto con questi soldi che ha spesi come tutti i partiti pensate che il pd abbia sobbed in cassa ha la cassa integrazione pensate che forse l'Italia abbia sobbed in cassa nonostante Berlusconi ha avuto anche ha licenziato anche lei tutti i partiti hanno licenziato perché si sono magnati tutti perché si sono magnati tutti perché sono finiti i finanziamenti pubblici e con i finanziamenti pubblici residui hanno fatto le loro campagne elettorali chiaro chiaro ed evidente però i 49 milioni vengono sequestrari solo la lega io questa la cosa la trovo una cosa incredibile e comunque oggi bel sito intervistato dal fatto come se fosse l'autoritas in materia di finanziamento pubblico mi fa davvero sorridere bitonci sotto segretario dell'economia mi sembra proprio della lega dice che si taglieranno subito le accise alla benzina peraltro aveva proposto la taglia delle accise alla benzina anche salvini in campagna elettorale ma e che comunque si partirà con una riduzione dell'aliquota fiscale poi nel 20 o 21 2020 2021 si inizierà a procedere alla flat tax a regio di cittadinanza esattamente il contrario di quello che dice il suo ministro dell'economia in tutti gli altri giornali perché ieri parla in varie occasioni e tria invece al contrario dice esattamente il contrario ragazzi mettetevi d'accordo bitonci c'è l'apertura del messaggero tria c'è l'apertura di cernobbio cazzo ma mettetevi d'accordo se sta al tax la fate non la fate l'unica flat tax al mondo con tre aliquote si chiamerà tria tax no facilissimo non flat tria tax ma il problema è che la tria tax converrebbe che si mettesse d'accordo con bitonci sottosegretario si avviene nel 2020 nel 2021 io la trovo una cosa fa volosa la stampa oggi invece titola e questa cosa che mi farebbe godere come un riccio anche perché io sono a favore dell'evasione fiscale più totale sto scherzando ovviamente ma insomma il maxi condono della lega al 10 per cento un'altra di quelle robe che si scrivono sui nostri giornali un giorno sì un giorno no aspettiamo ancora ormai un mesetto e vedremo quello che ci sarà tria tax condoni non condoni redditi di cittadinanza oggi la stampa torna con il condono non al 15 ma al 10 per cento vero simiglianza di tutte queste robe in economia zero consiglio ministri lotte interne giornali economisti lucrezia reichlen babbo natale insomma poi prima che verranno fatte queste cose quindi date il peso che gli do io cioè un titolo nella zuppa di porro non di più è morto il pd dice a sallusti ma attenti non è morta la sinistra piccola considerazione del fondo di oggi sallusti secondo me molto verosimile perché certo tipo di atteggiamento di sinistra sul lavoro sulle imposte sul reddito eccetera lo trovi in questo governo per chi fosse interessato a questioni un po più politologiche se lo leggi per chi fosse interessato invece a cosa succede veramente in italia il titolo del sole 24 ore sul quantitative easing che è molto semplicemente il fatto che draghi compre titoli di stato anche italiani per centinaia di miliardi destinato a come si sa a finire e secondo uno studio di ambrosetti dovrebbe valere 22 miliardi di costi in più la mancanza di quantitative easing posto che noi spendiamo tra i 70 e gli 80 miliardi di euro all'anno per pagare i debiti italiani cioè la rata del mutuo cioè gli interessi sul debito pubblico 20 miliardi in più è una cifra mostruosa se dovesse venire meno il quantitative easing queste cose si potrebbero scrivere semplicemente il sole 24 ore le scrive in un articolo complicatissimo dove si capisce nulla si capisce molto invece sul giornale di oggi che sull'ilva è stata spiazzata alla base dei peones del movimento 5 stelle soprattutto quelli tarantini che hanno portato a casa il 50 per cento dei voti a taranto è andato al movimento 5 stelle che chiedeva al movimento 5 stelle la chiusura dell'ilva cosa ha fatto di maio ha perso tre mesi un milione di euro al giorno per tenerla in piedi per traccheggiare e poi dopo l'ilva è stata data azzelor mittal nella stessa identica maniera con cui aveva deciso il governo prima è ovvio che i suoi peones tarantini sono arrabbiati anzi oggi cassese eletto parlamentare movimento 5 stelle a taranto in un'intervista al corredo della sera è fin troppo diplomatico e sembra dire vabbè va tutto bene è così in quello il centralismo democratico mi piace alla fine la democrazia è un modo come un altro per far sì che gli eletti facciano cose diverse rispetto a quelle che hanno promesso diciamo così in maniera semplice ultima cosa e no altre ultime due cose toti dice una cosa giustissima sul ponte di genova sul corredo della sera a roma non hanno fretta noi sì ed è assurda questa idea di centralizzare a roma tutte le scelte sul ponte in cui il partito lega che dovrebbe essere per il federalismo mi sembra che toti sia come commissario straordinario la persona che in questo momento tra lega movimento 5 stelle si muova meglio per risolvere problemi più che per fare politica qua e a due passi da qua su quel ponte distrutto che riesce a rendere molto più incasinata la vita ultima questione borgonovo su la verità è un tema straordinario perché albinati che purtroppo votai io anche al premio strega e dio mi maledica come direbbe un inglese cosa succede quando c'è l'acquarius fa una dichiarazione di questo tipo incredibile speriamo che muoia un bambino una persona dell'acquarius così il governo vede che vedrete che fine fa è una frase allucinante una frase che io metto sullo stesso identico livello di quello degli imprenditori che dicevano speriamo che che ridevano dopo i terremoti dopo le alluvioni no è la stessa identica cosa l'odio di questo governo fa sì che una tragedia cioè della morte di un bambino sia augurata per poter vincere e per poter vedere affermare la propria idea questa è una banale considerazione su quello che ha detto questo stronzo di albinati augurare e augurarsi la morte di un bambino e l'ho votato al proprio strega sto cattolico beh insomma è una roba allucinante ma la cosa che borgonovo trova giustamente oggi sulla verità e che poi ci ha ripensato cioè c'è passato un mese due mesi in un pamphlet avrebbe potuto rivedere la sua posizione magari chiedere scuse rispetto a questa stupidaggine che lui ha detto ognuno di noi dice delle stupidaggine io poi in diretta ne dico tantissime no ha rivendicato questa frase incredibile e borgonovo oggi lo tratta come deve essere trattato sulla verità albinati albinati preferisco sono mi auguro che muoia una persona per far capire al governo che cosa può succedere se acquarius non attracca se questo sono i nostri intellettuali italiani che hanno questa specie di antipatia nei confronti di chi li definisce radical chic e trovo che sia abusato il termine radical chic perché c'è una parola sola per un intellettuale che preferisce la morte di un bambino per poterla mettere in quel posto al governo sapete quella la parola non è radical chic stronzo ciao